Uomini e donne va in oggi. Data e anticipazioni puntata. Quando tornano in onda Uomini e Donne, Amici e C'è posta per te. Nonostante le puntate siano state registrate tempo fa. I programmi di Maria De Filippi sono stati temporaneamente sospesi da Mediaset dopo la morte di Maurizio Costanzo. L'azienda ha preferito omaggiare il giornalista con speciali approfondimenti. Lo stop andrà avanti anche mercoledì 1 marzo. Nessuna nuova indicazione è stata fornita dalla rete. Uomini e donne, il popolare dating show condotto da Maria De Filippi, non andrà in onda per tutta la settimana. In considerazione di quanto avvenuto la morte di Maurizio Costanzo Laquin della televisione italiana si prende una pausa dalla TV per cercare di elaborare il lutto. Quando tornerà in TV Uomini e Donne, il popolare programma televisivo del pomeriggio che tiene compagnia al pubblico di Canale 5? Scopriamolo assieme. Uomini e Donne, il popolare dating show di Maria De Filippi, non va in onda per tutta la settimana che va dal 27 febbraio oltre marzo 2023. Il motivo è facilmente intuibile. Maria De Filippi, da anni alla conduzione del programma recentemente è stata colpita da un gravissimo lutto, il 24 febbraio. Infatti, è venuto a mancare il marito Maurizio Costanzo. Proprio lunedì 27 febbraio ci sono stati i funerali. Seguiti in diretta sia da Mediaset che dalla Rai. Ed è il tutto logico che Maria voglia prendersi un po' di tempo prima di tornare in video. Quando tornerà dunque Uomini e Donne? Uomini e Donne, programma record di ascolti per la sua fascia oraria. Tornerà sugli schermi di Canale 5, lunedì 6 marzo 2023 alle 14, 45 come di consueto. Le vicende sentimentali, i litigi e le prese di posizioni, dei protagonisti del trono classico e del trono over torneranno dunque lunedì 6 marzo. Qualcuno aveva ipotizzato che Uomini e Donne potesse tornare in onda subito dopo i funerali di Maurizio Costanzo. Dal momento che come saprete le puntate sono registrate. Ma Mediaset ha preferito di no. Grazie a tutti. Grazie a tutti.